Ci è venuto a trovare in redazione Calogero Pisano De Tollillo, candidato per il centro-destra alle prossime nazionali nell'uninominale. Questa è una campagna elettorale molto difficile, anche perché c'è un collegio molto vasto. La prima domanda provocatoria all'ex consigliere comunale di Agrigento, quindi non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Ti senti all'altezza di rappresentare questo vasto collegio così pieno di problemi per conto appunto del centro-destra? Io mi sento all'altezza anche perché sarò accompagnato dai partiti del centro-destra che andranno a governare questo paese. Perché mi sento all'altezza? Perché io credo alla buona politica, non credo alla mala politica o all'anarchia della politica, che sarebbe il voto di contrasto. Perché la buona politica? Perché la buona politica è quella che fa i progetti, è quello che crede in un territorio, al sviluppo di un territorio, è quello che pensano i giovani, è quello che pensano le famiglie. Non è il voto dato alla mala politica solo per andare a occupare un posto a Roma. Oppure il voto viene dato all'antipolitica solo per creare anarchia e caos. Tu, appunto, come ho detto in premessa, hai già fatto il consigliere comunale, quindi ad Agrigento Città e nell'Interland ti conoscono, ma il collegio è molto vasto. Cosa intendi fare per cercare di andare a intercettare i voti in questa campagna elettorale che sarà molto complicata? Naturalmente utilizzare sia le strutture di partito, la struttura dove io vengo, che provengo da una struttura giovanile, che era azione giovani, che era il gruppo giovanile di alleanza nazionale, e comunque i giovani... Quindi tu hai sempre militato nello stesso partito? Sì, io milito dal 1996, la mia prima tessera è datata a 1996, il gruppo giovanile di alleanza nazionale. Sono passati 21 anni, sono stato sempre dalla stessa parte, nel bene e nel male, facendo battaglie, vincendole, perdendole, ma sempre dalla stessa parte. Per me la politica, come dicevo poco fa, appunto è questa, creare le occasioni e le opportunità per sviluppare il territorio con la buona politica. La coerenza, la meritocrazia, fanno parte dei miei ideali. Il Volta Gabbana, colui che cambia partiti solo per avere una postazione in più o per avere un seggio, quella è la mala politica. Quindi riprendendo al discorso di prima, io intendo girare tutto il collegio e naturalmente andare a trovare tutti i consiglieri comunali, sindaci, prendere le proposte, cercare di fare veramente politica e naturalmente portare le proposte serie anche in Parlamento.